ecco c'è la cascata degli abbracci che purtroppo in questi periodi non c'è acqua e luca a me non ci si bagna che l'ombrello devo portare ah ecco la cascata degli abbracci pensate quando c'è l'acqua che viene giù l'acqua viene giù che spettacolo fantastica copro fotocamera copro arresta video